Il finanziamento pubblico, il giudizio finale come sempre noteranno gli spettatori. Stavane sulla stampa, Giovanni Anzani, in prigione di Anzoni, DJ, il film è dentro, ma dove la priana? Allora, la polemica è ancora accesa, cosa risponde? Guardi, è un po' di natura sera, per fortuna, gli spettatori si stanno appassionando al film e cominciamo, come racconta bene Vincenzo Mollica del servizio, a discutere del film, appassionarsi a un film che è appunto una specie di commedia sociale, di thriller che racconta così come gli attori straordinari e quindi mi è dispiaciuto.